E' fuori pericolo la bimba di 5 anni precipitata dal secondo piano di un palazzo di Caivano in provincia di Napoli. In via Volta la caduta, secondo una primissima ricostruzione, sarebbe stata attutita dai fili per stendere la biancheria. Con una nota la procura di Napoli Nord ha confermato che gli immediati accertamenti hanno portato a ricondurre l'evento a cause di natura accidentale, considerato anche che la bambina si trovava da sola in casa. La piccola è stata trasportata all'ospedale Santo Bono, parla normalmente, spiega Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Napoli, ha risposto alle nostre domande. Ha dei doloretti per escoriazioni non gravi in diverse parti del corpo, in particolare ha piccole ferite alle dita di una mano. Adesso è in condizioni discrete, è vigile, reattiva e orientata nel tempo e nello spazio. Non sembrano esserci quindi danni neurologici. Nata in Italia è figlia di cittadini del Burkina Faso stranieri regolari. In totale hanno cinque figli, la piccola era a casa, non stava bene, il padre era al lavoro e la madre era uscita per alcune commissioni ad indagare sull'accaduto i carabinieri.